Beh, vedi che stocca di formaggio, eh? No, ti ha romputo anche questo. Mangiamo questa volta? Oh. Vedi, ti affoghi però. Andiamo. Sei pieno e più. Ma possiamo che c'ho da avere uno strusso ogni volta che mi metto a mangiare la palaprenza? E' antico. Ma ne è troppo? Oh, ecco neanche. Per rispetto ne mi chiuso. Sì, mangi ne più. Ma il rispetto lo fai da te, eh? Vedi, giù. Dagli giù. Nonna Mari, ma ne è troppo? Guarda come mangia. Quattro ganassi. Oh no. Nonno. Arzughe? Carzughe. Guarda, guarda come arzuga. Tutti insieme. Tre, due, uno. E' questo, no? Eh? Le cappocci di rapi. Ma che sarebbero le cappocci di rapi? I rapi? Ah. Tu non ne sai come è fatto. Ah. Oh, i rapi. Sopra c'hanno i bozzoni, i bozzoni che si mangiano. Ah. E sotto la radice sono queste, c'ha le cappocci. Quindi che sono queste? Le cappocci di rapi. Come so? Sono come i coglioni. Due, no? Due, no? Due, no? Due, no? Due, no? Due, no? Due, no?